Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, stare dietro alla Ferrari è una bella soddisfazione. Vabbè, io ce l'ho corso due anni con la 500. Quindi è una macchina che conosco. Diciamo che la padroneggia. Incredibile la frenata di questo macchiccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ringraziamo il nostro pilota istruttore. Grazie a voi.